Penso che ci saranno altri incontri con il PDL e con le altre forze politiche perché oggi si è ragionato di criteri. Se la volontà è quella giusta, è ovvio che poi dopo per arrivare a individuare il nome giusto bisognerà che ci siano altri incontri in vista poi del voto del 18 aprile. Credo che la cosa più bella sarebbe se il 18 aprile si eleggesse un Presidente della Repubblica con una larga condivisione. Credo che questo sarebbe un segnale molto bello per l'Italia, per gli italiani e anche per il futuro del nostro Paese. Grazie.